Hanno fatto lo sciopero all'officina di Portici quattro ore senza lavorare per protestare per farsi pagare Hanno fatto lo sciopero per l'orario insopportabile Eran dieci ore ma il direttore ne voleva ancora di più Bisogna fare sciopero per un lavoro da cane sciopero per un salario da fame Non si può, no, non si può ammazzarci di fatica così Quattro ore di sciopero all'officina di Portici Quattro ore di tempo per parlare, per giudicare, per farsi ascoltare Quattro ore di sciopero ma il direttore non è in fabbrica Quattro ore di tempo per denunciare, per far venire i bersaglieri Sciopero per un lavoro da cane Sciopero per un salario da fame Non si può, no, non si può ammazzarci di fatica così Quelli sono briganti, dice il direttore, sono delinquenti E per farli ragionare, signor Maggiore Bisogna picchiare, bisogna sparare Cinque ore di sciopero e cinque morti all'officina di Portici Quattro ore di tempo per parlare, la finta ora per farsi accoltare Sciopero per un lavoro da cane Sciopero per un salario da fame Non si può, no, non si può ammazzarci di fatica così Non si può, no, non si può ammazzarci di fatica così